Siamo a presentare il festival Paganini Genova Festival edizione 2019. In questo festival che inizierà il 4 di ottobre e terminarà il 27 abbiamo una quantità di eventi, tutti nel nome di Paganini, che non vuol dire solo musiche di Paganini, ma tematiche che sono state ispirate da quell'eredità musicale e culturale che Paganini ha lasciato alla sua città, Genova, ma al mondo musicale. Nella parte culminante del festival, l'ultima settimana, che si conclude col giorno del compleanno di Paganini il 27, avremo 4 vincitori del premio Paganini e tra questi avremo 3 cinesi e un italiano, l'ultimo italiano che si è aggiudicato il premio, che è Giovanni Angeleri. Alcuni di questi eventi saranno poi portati anche a Pechino, al Conservatorio di Stato, per questa sorta di gemellaggio musicale nel nome di Paganini, tra la città di Genova e la città di Pechino, questi due estremi della Via della Seta. A Genova sono legati alcuni dei ricordi più belli della mia vita e devo dire che questo collegamento tra Genova e Pechino per me è molto bello perché ho trovato a Pechino un ambiente musicale molto vivace, con un grandissimo interesse per l'approfondimento dello studio della musica in un modo che forse qui ancora non si trova perché la ricerca da parte di violinisti che hanno delle capacità di virtuosismo eccezionali lì a Pechino, la ricerca dell'approccio storico all'interpretazione, un approccio culturalmente più vasto, mi ha veramente stupito.